Noi non vogliamo più morti sul lavoro. Uno è successo quest'anno, ora inizio anno, e noi speriamo sia l'ultimo, vogliamo sia l'ultimo. È il grido dei sindacati, quello che abbiamo raccolto all'indomani della prima morte bianca in provincia di Arezzo, in Toscana, il primo morto di fatto sul lavoro in regione Toscana, l'uomo di 51 anni, l'operaio esperto, padre di due figli, che purtroppo ha perso la vita in un incidente. Per quanto accaduto, la procura ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Marco Dioni è il magistrato che coordina le indagini. Per fare chiarezza su quanto accaduto, sarà necessaria anche l'autopsia sul corpo del 51enne. L'uomo è precipitato in un frantoio per inerti. Si cerca adesso di capire se si sia trattato di un errore umano, del malfunzionamento del macchinario che frantuma materiale per inerti e per l'edilizia o di qualsiasi altra causa. Sì, è un operaio, fra l'altro, che non conoscevamo perché io poi seguo anche il casentino, veniva anche in i nostri uffici, veniva lì al patronato e era dai primi anni 90 che lavorava. Quindi il datore di lavoro, anche in questa dinamica, deve sempre fare in maniera che tutti, dal primo all'ultimo, dal primo assunto, a quello che è più anziano, deve essere sempre sotto attenzione. E io faccio un appello alle imprese perché facciano la formazione continua. Nel vostro osservatorio, negli anni della pandemia, le ore di formazione sono aumentate, diminuite o sono sempre le stesse? Beh, è chiaro che durante la pandemia molte aziende non hanno lavorato. C'è stata la cassa di tirazione per Covid e per cui la formazione non l'hanno fatta di sicuro. Molti erano a casa e ci sta anche che abbia in qualche maniera contribuito, possa contribuire anche a un calo, chiaramente, dell'attenzione, perché poi quello che conta è anche l'aspetto interiore della persona, cioè una persona come si approccia sul lavoro. Certo è che non è una scusa, non di caso, perché quando succede un infortunio gravissimo, come in questo caso, bisogna fare un passo indietro e andare a vedere quello che è successo e fare in maniera che quello che è successo non debba più ripetersi.